In quel tempo, mentre il Signore Gesù usciva dal Tempio, uno dei Suoi discepoli gli disse «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose «Vedi queste grandi costruzioni, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte «Dì a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?» Gesù si mise a dire loro «Badate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo «Sono io» e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi, deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno, vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi, vi consegneranno ai Sinedri, sarete percossi nelle sinagoge e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là, dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione fatta da Dio, fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, ecco, è là, voi non credeteci, perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. In quei giorni dopo la tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Wow, che vangelo difficile per noi umani! Nelle scritture i discepoli dicono due semplici cose a Gesù, ma il Signore non dà loro le risposte che si aspettano, anzi dà delle risposte che a parer mio fecero riflettere molto i discepoli. Dice loro cose inaspettate, fuori dal normale, articolate e scomode. E tu, sei circondato da qualcuno che non ti dà le risposte che ti aspetti? Qualcuno che ti dà delle risposte scomode? Se sì, che domande gli fai? E se invece no, tu, che domande ti fai? Riservi del tempo della giornata per pensare, per dare delle risposte a queste domande? Ricordati che se non ti fai delle domande non riceverai delle risposte. Se ci fermiamo un attimo a pensare all'angelo che abbiamo appena sentito, possiamo notare che all'interno di esso c'è un discorso fatto da Gesù che potrebbe ricordare il discorso di Aredon nel Signore degli Anelli, ma in realtà è molto più catastrofico. In questo discorso Gesù infatti predice un futuro catastrofico e disastroso per i nostri discepoli. E allora sorge in noi la domanda. Come hanno fatto e con che forze di volontà i discepoli hanno continuato a seguirlo, nonostante questo futuro disastroso che gli si prospetta davanti? Potrebbe essere la fede, possiamo dire. Sorge in noi anche un'altra domanda. Avremmo la stessa forza di volontà che hanno avuto i discepoli in seguire Gesù per seguire un ideale, una nostra credenza?